Poltronieri, volume 1, studio numero 61, tempo tre quarti, tonalità di Do maggiore. Studio sulle sestine. Le sestine derivano dalle terzine e sono la suddivisione binaria di un gruppo ternario. Velocità, se minima, a 48 bpm. Do, Re, Mi, Fa, Sol, A, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, 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 Mi fa re sol sol la si do re mi re do si la so do re mi do sol sol la si do re mi fa mi re do si la so fa re mi so fa la sol si do si la so la so fa mi fa sol la si do re mi fa do re do si la so fa sol la si do re mi fa sol re mi re do si la re mi re do si la do si do re mi si do la sol do re mi re do si la sol do fa mi re do si la sol do re mi fa so la si do re mi fa mi re do si la so si la so la fa so mi Do Si La So Fa Mi Re Do Re Do Si La So Fa Mi Re Do Re Mi Fa So La Si Do Re Mi Re Si So Fa Re Do